Sì, grazie Presidente. Sono inutile dirlo, molto provato dagli esiti di questa delibera per la complessità, per il tempo che si è reso necessario per l'interlocuzione con gli uffici, con le commissioni, per l'atteggiamento di alcune persone dell'opposizione, perché in questo caso non si pongono su un piedistallo, ma rappresentano uno tra i tanti soggetti portatori di interesse della città e poi bisogna vedere quanto è rappresentativo. Quel portatore di interesse è degno di ascolto come tutti gli altri. Ricordo che questa proposta è stata presentata il 10 maggio, a poco più di un mese dal lockdown, inizio pandemia serio, in cui tutti gli esercizi commerciali erano molto provati. Per cui, ripeto, probabilmente era un errore esterno. Mi ne ho stato reso conto da subito, anche grazie all'interlocuzione con gli uffici, perché, ripeto, non ho difficoltà. Non sono uno che vuole concedere il solo pubblico a tutti, in qualunque momento, se no l'avremmo fatto anche nel 1991-2019. Lì avevamo provato a dare solo le panchine anche dentro la città storica. Questa era la differenza e l'artigianato alimentare era limitato. Però il consigliere Gorsetti deve ricordare che tutte queste categorie non fanno solo profitto, portano anche lavoro a delle famiglie. Quindi questo bene deve essere considerato come anche il decoro, come anche la tranquillità dei residenti, come viceversa i residenti devono considerare l'importanza della sicurezza del presidio di legalità e di anche decoro e di ambiente ambientale che possono dare gli esercizi commerciali. Adesso cerca naturalmente di rappresentare l'intersezione più nefasta tra tutte queste emendamenti, cogliendo il caso peggiore e aggiungendoci anche del suo. Io penso che si debba vergognare lui di fare politica in questo modo, rappresentando solo un determinato portatore di interesse, come probabilmente fa da diverso tempo. Sicuramente gli ha portato i suoi risultati nel tempo, è stato sempre rieletto, ma secondo me invece il vero danno alla città l'ha fatto il consigliere dei corsetti, anche come nei suoi ex trascorsi, perché non ha rappresentato, ripeto, il giusto equilibrio tra attività produttive e residenti, ma ha rappresentato la battaglia alle attività produttive per tutela dei residenti. Nella delibera, secondo me, ci sono molti aspetti positivi, così come è emendata, ci sono molti aspetti positivi, si viene incontro alle attività produttive, si aggiungono due mesi al periodo delle OSP, che in questo periodo di pandemia ancora in corso evidentemente sembra un atto quasi dovuto, ci sono le migliorie introdotte dagli uffici, ci sono delle OSP che vengono estese anche fronte a esercizio in alcune tipologie solo con il parere degli uffici, ci sono gli adeguamenti al decreto legge che porta a marzo 2021, le deroghe al decoro e la presentazione delle domande e io penso che tutte queste cose potranno mantenere ancora un equilibrio tra attività produttive e decoro e cittadinanza, questo se tutti i soggetti portatori di interesse vorranno partecipare a questa iniziativa. Lo si fa come? Lo si fa da una parte o dall'altra segnalando alla utilità competente tutti coloro che non si comportano in modo corretto e questo penso che sia il dovere di ogni cittadino di questa città. Ci sono delle regole, vanno rispettate, questa delibera così come è andata va incontro a delle regole molto importanti, però fornisce anche delle aperture alle attività produttive che in questo momento ne hanno sicuramente bisogno. Per questo io propongo il voto favorevole di questa delibera. Grazie Presidente.